Per me i 18 mesi da lotta partigiana sono tutti giorni della memoria. E noi sparavamo contro le bombe in mezzo, lì finché c'era fumo, sparavamo. In quel momento abbiamo cominciato a far fuoco sui fascisti, o noi o loro. Queste donne partigiane non avevano nulla di mitico, avevano soltanto dei sentimenti. Questi sentimenti erano la solidarietà, la tolleranza, il sacrificio e il dovere civile. Tali sentimenti li misero a disposizione della guerra di liberazione. Ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Io sono ammalata, io devo andare all'ospedale, io sono ammalata. E allora dà l'occhio. Dove andate all'ospedale? Allora, io vi ho mancato. Mi furono un tocco in tram, un tocco a pelle, un tocco in tram, un tocco a pelle. E poi andavamo a metterla a quelli, mancato, erano cati. Io la porta, ah, shoppia. Tra me macerie e sotto i mortai Come l'acciaio resiste la città Strade di Stalingrado di sangue siete rastricate Ride una donna di granito su mille parricade Sulla sua strada gelata la croce uncinata al bossa D'ora in poi troverà Stalingrado in ogni città